al Gran Premio di Germania, con Didier che si trova in testa al Mondiale. Le qualifiche si effettuano sotto un autentico acquazzone e in pieno rettilineo, dietro alla Williams di Derek Daly che si sposta sulla sinistra. Didier crede che l'irlandese gli abbia lasciato via libera e accelera, ma in realtà Daly aveva solo evitato Prost che procedeva lento. Didier ha cercato dalla nube d'acqua e non lo vede, e come Gilles, decolla sulla Renault. Vola, talmente alto che dichiarerà poi di aver visto le cime degli alberi e aver pensato «sto per morire». La Ferrari cade di muso e il telaio ancora una volta non regge il tramento e impatto. Si apre, il muso si disintegra e così le gambe di Didier. L'unica sua fortuna è che, a differenza di Gilles, le cinture, seppur in parte, hanno retto. Accorre Piquet, che si schiererà poi sulle pagine di autosprint contro la Ferrari e il telaio troppo debole e pericoloso. Didier però ne esce con le gambe maciullate. Serviranno circa 30 operazioni per potergli permettere quantomeno di poter camminare, ma pur partecipando ad alcuni test con la Ligier, non tornerà mai più a correre, almeno sulle quattro ruote. Troverà la morte nel 1987, in una gara di offshore, passione che aveva in comune con Gilles. Pochi mesi dopo nacquero i suoi due gemellini, che la moglie, a suggerrare probabilmente quel legame spezzato dal destino, chiamerà Gilles e Didier.